Venafro come non l'avete mai vista. Oltre 100 Rinactor in uniforme storica hanno popolato Piazza Castello, il centro della città, per ripercorrere le aree interessate e gli eventi bellici che videro Venafro, tra le altre protagoniste della Seconda Guerra Mondiale. Per gli 80 anni dal bombardamento, l'associazione Winterline ha organizzato la quinta edizione del raduno, che anche quest'anno ha attirato turisti e figuranti da ogni parte d'Italia. Venafro ha pagato un grosso tributo di sacrificio durante la Seconda Guerra Mondiale e quindi è giusto quest'anno far capire alla popolazione che noi siamo stati in un territorio importante e che la nostra società deve il suo benessere al tributo pagato dal novembre 43 a febbraio 44 e poi marzo col tragico errore del bombardamento. Il museo Winterline di Venafro per un giorno è diventato di fatto animato tra alleati e tedeschi che hanno preso vita in abiti originali e accessori curati nei minimi dettagli. Mi sembra di essere quasi in un museo vivo e questo mi fa piacere e lo devo tanto alle associazioni che hanno partecipato. Vedo che curate tutto nei minimi dettagli, anche il taglio dei capelli se posso. Sì, sì, è una delle cose importanti secondo me, la cura del dettaglio. Oggi in particolare vesto da Goumier, quindi soldato del CEF, che era il corpo di ispezione francese. Abbiamo divise americane in specifico della 45esima divisione Thunderbird, che tra l'altro ha combattuto anche qui a Venafro. Io raffiguro i soldati tunisini che facevano parte dell'esercito francese. È una giacca, un ufficiale. Le donne erano molto presenti nella Seconda Guerra Mondiale, svolgevano dei ruoli molto importanti anche per quanto riguarda gli ospedali militari. Circa 20 i mezzi della Seconda Guerra Mondiale arrivati a Venafro per la quinta edizione del Raduno Winterline e che hanno portato i visitatori indietro nel tempo. Marocchini americani che giocavano a carte, paracadutisti in attesa di istruzioni, soldati in perlustrazione e per finire un aereo ricognitore della Seconda Guerra Mondiale americano che sorvolava Castello Pandore.